Quarto appuntamento in Villa Pignatelli della Rassegna 2023, promossa dal Maggio della Musica e realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei Campania. La serata segna il debutto a Napoli di Ettore Pagano, violoncellista di punta del nuovo panorama internazionale. A 21 anni, Pagano vantaggia una serie di strabilianti primi premi ottenuti in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. E' un repertorio che spazia dal Settecento, Bach, con la quinta suite, con la scordatura, quella in do minore in cui la scende al sol, molto interessante dal punto di vista dinamico dello strumento, le vibrazioni stesse dello strumento cambiano. E' un repertorio che spazia anche verso il Novecento con Kodai e Ligeti, due autori ungheresi che hanno fatto parte proprio di una scuola ungherese molto importante. Con queste due opere si scopre completamente il violoncello, con tutte le sue sfaccettature tecniche interpretative. Quindi è un repertorio sicuramente completo che è un biglietto da visita per questo strumento, il violoncello. Il violoncello solo non è un repertorio che viene proposto spesso. Io spero di fare sicuramente del mio meglio per far conoscere questo tipo di repertorio al pubblico stasera. Anche per questa edizione inscindibile il matrimonio tra Villa Pignatelli e il Maggio, radio ufficiale di questa edizione Radio Live FM. Soddisfazione nelle parole del direttore artistico Stefano Valanzuolo e di Sergio Mio Martini, segretario generale del Maggio della Musica. L'importante è che Napoli sia piena di turisti, che questi turisti siano diventati turisti consapevoli della qualità culturale, dell'offerta della qualità culturale napoletana. E in questa offerta culturale napoletana c'è anche il Maggio della Musica, naturalmente. Noi siamo contenti di aver messo su una stagione non banale, cioè una stagione in cui ci sono una serie di protagonisti, una serie di musicisti che magari a Napoli non hanno mai suonato. Ecco, il caso di Ettore Pagano, violoncellista ai 20 anni, straordinario peraltro, che debutta a Napoli, è un caso che può solo farci piacere perché rientra in questa politica di novità. Un appuntamento atteso da parte del nostro pubblico. Quando siamo nati 26 anni fa non avremmo scommesso su questo risultato, che viceversa ci ha dato grandissime soddisfazioni. Sì, è vero, è un'iniziativa questa nostra molto importante perché si rivolge ad un pubblico vasto che si rinnova e che attrae.